Benedetta Fusetti, padovana, 17 anni, passa in un weekend dalla categoria promesse della scherma italiana a splendida realtà della sciabola. Al campionato del mondo Under-17, infatti, si porta a casa una splendida medaglia di bronzo, tanto inattesa quanto meritata. Benedetta, che tira di scherma da quando aveva 10 anni, appassionata dopo aver visto le Olimpiadi di Londra, fa parte del Petrarca Scherma. Pochi giorni prima di partire per la Polonia, dove a Turun si sono ottenuti i mondiali, non sapeva neppure di dover fare le valigie. Pochi giorni prima, però, particolarmente in forma, aveva ben figurato in una gara austriaca. Così, con emozione, aveva ricevuto una convocazione insperata dell'ultimo momento, mandando in agitazione tutta la famiglia, le sorelle Carlotta, Diletta e Vittoria, la mamma Giulia e, se permettete, anche il papà Federico, che si chiama proprio come il nostro collega Federico Fusetti, anzi, è il nostro collega Federico Fusetti. Benedetta ha passato due turni di eliminazione diretta, un derby con una ragazza di Torino, Federica Guzzi Susini, che ha battuto 15-3, si è fermata con l'ungherese, che poi ha vinto l'oro, ma si è rifatta tirando per il bronzo contro una ragazza coreana, portandosi a casa la sua bella medaglia. Benedetta, che studia al Cornaro, terza liceo scientifico, tornerà a casa mercoledì. Bisogna studiare, ma a questo punto, sportivamente parlando, nessun sogno può essere escluso. Anzi, sognare è doveroso, comunque sarà il risveglio, sarà bellissimo.